Ti piace più o meno aderente? Oggi ti voglio parlare dell'aderenza, o in inglese, del grip. Le prese possono essere fatte in diversi materiali. Possono essere di varie resine o anche di legno. Ma se su roccia la differenza di aderenza della presa è dovuta dalla granulometria della roccia stessa, quindi calcare più liscia, granito più aderente, più ruvida, invece nelle prese di arrampicata artificiali è dovuta al modello. Ti dirò un segreto che solo i grandi produttori di presa di arrampicata sanno. In realtà la presa viene fatta con la resina. La resina viene colata all'interno di uno stampo. Fai conto come se fosse questo, uno stampo. Quindi viene colata qua dentro la resina. Essendo liquida si adatterà alla superficie di fondo dello stampo. Quindi se lo stampo è liscio, la presa, comunque anche se dentro ci metti i sassi, verrà liscia, quindi non dipende più dal materiale, dal tipo di resina, perché diventa liquida qualsiasi tipo di liquida di resina. Dipende in realtà dal modello, cioè quello sul quale si fa lo stampo. Quindi il materiale del modello deve essere più o meno ruvido. Quello darà ruvidità, porosità e, diciamo, un profilo non liscio dello stampo che genererà prese con più o meno grip. L'aderenza della presa di arrampicata artificiale non dipende quindi dal materiale al quale è fatto la presa di arrampicata. Il materiale può incidere nel peso e nel come si rompe. Quindi se vuoi prese artificiali più o meno aderenti, ora sai che non è il materiale che fa la differenza, ma la lavorazione. Per riuscire a scegliere il più correttamente possibile, la domanda in realtà che ti devi porre è Hai bisogno di più o di meno aderenza? E per cosa fare? Per cosa allenare? Questa è la chiave del discorso e di questo video. Infatti l'ho chiamato sensibilità. Se utilizzi le prese per sviluppare le tue abilità, la tua percezione e la tua disinvoltura del gesto, del movimento, quindi la fluidità e quindi anche diventare un arrampicatore provetto, allora sappi che devi allenare proprio la sensibilità. Vuoi riuscire a tenere piccoli appoggi, piccole prese e avere un gesto comunque fluido? Allora prendi il toro dalle corna e allenati su piccole prese scivolose. In questa maniera tu sarai abituato a quella sensazione e saprai gestirla. Perché? Perché ti ci alleni, lo fai costantemente e quindi non sarai più sorpreso quando ti troverai in determinate situazioni ad utilizzare prese piccole. Non ti sorprenderanno più, sarai più sicuro, ti sentirai più sicuro e sarai più disinvolto. Oltre all'allenamento percettivo, poi le prese piccole, un po' più scivolose, diciamo meno aderenti, ti richiedono più attenzione e più precisione, come ho detto nel video precedente. E metteranno risalto ogni volta che tu sbaglierai posizione o che magari il movimento lo farai un po' più rigido o un po' più di scatto o strapposo, come? Facendoti cadere. La presa scivolosa, se ti metti in una postura sbagliata, tenderai a scivolare, tenderai a perdere la presa. E ugualmente, se farai un movimento di scatto, la perderai. Quindi ti indurrà, uno, a stare più attento e quindi allenare la tua concentrazione, quindi a protrarre nel tempo la concentrazione, e due, metterà in evidenza tutti gli errori. In questa maniera tu potrai correggerti. Per questo, tra le prese mie preferite, ci sono anche quelle in legno. Ma il problema del legno è che costa tantissimo, e poi comunque non tutte le prese, cioè non tutte le forme con il legno riesce a farlo, e poi diciamo che c'è bisogno anche, come sempre nell'arrampicata, essendo uno sport di situazione, di variare il più possibile. Quindi, come nelle prese che abbiamo studiato insieme a Extreme Limits, abbiamo una via di mezzo tra un grip delle prese che non consuma la pelle e né ti tiene lui, perché è anche lì il discorso, cioè la presa la devi tenere te. Quindi c'è una sensazione che non è pessima, e quindi ci puoi fare anche altri tipi di lavori, non solo quello estremo, di percezione estrema, che anche io lo faccio con alcune prese in legno, ma altre volte c'è bisogno proprio di lavorare sulla scioltezza, di fare più movimenti di seguito, o di fare movimenti più ampli possibili, e quello hai bisogno comunque della resina. Una presa in resina che sia comunque ergonomica, che non ti faccia danno sia sulla pelle, ma soprattutto vite, articolazioni, tendini, e quindi ergonomica. Sicuramente non ti dico di riempirti il muro di prese piccole e scivolose, perché sennò anche lì ti passerebbe facilmente poi la fantasia di allenarti. Però dobbiamo trovare la giusta misura. Giusta misura, ma soprattutto anche il tipo di allenamento. Quindi io magari gioco con le prese un po' più grandi, mi ci scaldo, ci faccio alcuni traversi per divertirmi, tra virgolette, lavorare per esempio sulla decontrazione. Quando invece voglio lavorare, voglio fare un allenamento serio, o al clou dell'allenamento, incomincio ad allenarmi su imprese piccole mani, piccole piedi. Così lavorerai effettivamente sull'equilibrio, sul pensiero verticale, focalizzare, priorizzare, essere attenti, presenti e consapevoli. Iscriviti al canale per rimanere aggiornato, schiaccia il tasto, campanellina. Grazie, alla prossima, ciao. Ciao, ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti.